musica musica cari amici di youtube ben ritornati mi viene da ridere perché guardate com'è il prato completamente secco ebbene si terza parte diserbo sul mio tappeto di festuca rondinacea benvenuti in questo nuovo video come vi avevo detto avevo deciso di diserbare il mio prato di festuca rondinacea a pratensis per passare quest'estate a un nuovo tappeto erboso ossia una macro terma la bermuda grass cinodon dactylone tfue 419 nella seconda parte vi avevo fatto vedere il diserbo fatto con acido pelargonico come vedete ha fatto effetto c'è qualche chiazza ancora con qualche ciuffo verde ma al massimo andremo a ritrattarla se poi non si seccherà quindi come vedete sicuramente tanti di voi con dispiacere anche io sono dispiaciuto per carità perché comunque è stata una scelta molto difficile però bisogna appunto delle volte prendere anche delle decisioni come nella vita che sicuramente porteranno al meglio si spera sempre così quindi ragazzi miei che dire adesso vedete che il tappeto innanzitutto è secco c'è anche quell'odore un po' di paglietta bagnata come ha fatto un po' di pioggia in questi giorni il fatto che piova anzi mi aiuterà per vedere se ripartirà per eventualmente poi eseguire un altro diserbo e niente per il momento lo lascerò così quindi quello che andrò a fare successivamente sarà probabilmente quello di utilizzare un bruciatore e bruciare tutta la parte apicale oppure direttamente rasarlo molto molto basso e poi andrò a passare un verticata a lame in modo giusto da aprire un po' il terreno non devo fare una risemina ma devo fare una posa con tappeto erboso pronto quindi a rotuli se avessi dovuto seminare probabilmente l'arieggiatura e il verticata l'avrei fatto anche più pesante in modo da far scendere bene il seme e poi fare un top dressing quindi per il momento lo lascio così vediamo se usciranno anche altri infestanti se adesso magari prenderà piede anche la po' annua visto che questo tappeto erboso ormai è morto e quindi troverà sicuramente spazio anche qualche infestante e niente quindi diciamo che poi accelereremo tutte le operazioni quando il nostro tappeto erboso di cinodon sarà pronto alla raccolta quindi sarà in piena attività quindi potremo andare a posarlo vi farò vedere anche mi raccomando la raccolta del prato quindi andremo proprio a vedere in azienda come si zolla il tappeto erboso vi farò vedere insomma un po' di cosette molto interessanti e niente quindi che dire era giusto per aggiornarvi come vi avevo promesso su appunto questo lavoro che andrò a fare molti di voi mi hanno scritto che comunque vorrebbero passare a un tappeto erboso di bermuda quindi ricordatevi sempre che la bermuda è una macro terma va in dormienza invernale in Sardegna ce la godiamo un po' di più ovviamente il clima sta cambiando quindi riaffrontando quel discorso lì potremo poi arrivare anche a goderci la verde tutto l'anno nord Italia probabilmente sì il caldo c'è andrà avanti molto bene però poi bisogna vedere nella parte invernale comunque le temperature sono sempre inferiori rispetto alla Sardegna quindi potreste avere dei problemi ma questo non è detto quindi diciamo che piano piano stiamo arrivando ad avere appunto le macro terme anche in tutta Italia magari non dico alta Italia come può essere in Trentino un valle d'Aosta assolutamente lì ancora sarà difficile però comunque Piemonte, Lombardia dovremo già esserci qualcuno di voi sta sperimentando e sta provando come si comportano e soprattutto la durata della dormienza perché alla fine è quello che conta se poi abbiamo una dormienza molto lunga ci godiamo il tappeto erboso per dire da maggio fino ad agosto e basta su un pochino e niente quindi vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube mi raccomando per rimanere sempre aggiornati poi se volete pagina Facebook e Instagram Greenhouse Italia e vi aspetto con un prossimo video ciao a tutti